Un corso per giovani studenti qui ad Alcamo per far conoscere cosa? Oggi facciamo conoscere il nuovo corso di laurea in scienze e tecnologie agroalimentari. Siamo qui perché oggi veramente si compie il primo passo per l'avvio delle attività della cittadella dei giovani e lo facciamo grazie proprio alla collaborazione del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie coordinato dal professore Paolo Inglese dell'Università di Palermo. Siamo qui per due motivi, proprio in questo luogo vogliamo trattare questi temi, birra, lievito madre piuttosto che olio proprio perché l'amministrazione assolutamente riconosce la vocazione agricola del nostro territorio e l'importante ruolo che l'industria agroalimentare svolge di supporto appunto al settore agricolo. Oltretutto vogliamo puntare moltissimo sulle opportunità che ci offre il turismo enogastronomico e il turismo rurale in genere ma siamo qui nella cittadella dei giovani perché siamo consapevoli che il sapere, quindi la conoscenza oggi più che mai rappresenta veramente una risorsa per lo sviluppo del nostro territorio sia dal punto di vista economico ma anche sociale. Quello che stiamo facendo oggi qua è importante, Alcamo per noi rappresenta qualcosa come 11.000 studenti che da questa zona della Sicilia si iscrivono all'Università di Palermo, creare un hub qui, un punto di riferimento culturale per i ragazzi dove noi verremo a fare lezioni, seminari, incontri, incontri tecnici è estremamente importante nell'ottica di una diffusione della conoscenza sul territorio e nel tentativo che credo e sono certo sarà riuscito di formare anche in situ, come si dice, gli studenti e di informare i giovani studenti delle scuole delle possibilità che hanno nella nostra Università. Quindi nuove ricerche e tecnologia. Noi puntiamo al completamento della filiera, l'anello più debole del settore agricoltura è quello relativo alla trasformazione, quindi stoccaggio e anche confezionamento e quindi cercare nuovi mercati per collegare questi nostri prodotti che sono in realtà di eccellenza. Noi con la ricerca che portiamo avanti vogliamo mantenere la qualità che vi è nella produzione primaria cioè dire in campo. Le nostre imprese cosa fanno? Producono però in realtà non valorizzano poi questo prodotto sul mercato cercando di mantenere quali sono le caratteristiche primarie della produzione nostra. Spesso, quando andiamo fuori e soprattutto all'estero, i prodotti nostri che arrivano all'estero in realtà non rispondono alle caratteristiche qualitative della nostra produzione primaria. Noi con la ricerca che portiamo avanti vogliamo enfatizzare, migliorare e mantenere quella qualità che i nostri prodotti in realtà hanno in campo.